Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale se avete già letto il titolo saprete già di che cosa si tratta per cui non vi nascondo niente e vado direttamente a mostrarvi questa bellissima scatola di cui adesso andremo a fare l'unboxing e questo qui probabilmente è il primo unboxing vero che vedete su questo canale perché io questa scatola non l'ho ancora aperta. Per chi fosse nuovo vi ricordo che questo è un canale dedicato al mondo della fotografia, del video ma anche della post produzione, dell'illustrazione e del design per cui se vi interessano questi argomenti io vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche. Andiamo a incominciare. Devo dire scatola un po' gigante però comunque devo dire che la scatola è pure bellina ci sono sopra le mie ditate. Andiamo ad aprirla e vediamo che cosa c'è dentro. Allora nel momento in cui apriamo la scatola la prima cosa che mi viene in mano ovviamente è un libretto di istruzioni in giapponese. Questo lo mangio dopo. Poi abbiamo image.canon. Questo qui è l'applicazione per lo stoccaggio delle foto online credo che io non uso mai stupidamente perché potrei, magari mi darebbe delle sicurezza in più ma invece non lo uso mai. Questa qui è il sistema di garanzia. Qui abbiamo un po' di foglietti. Questo qui è un altro foglietto di cui ignoro l'utilità. Ah ecco qui abbiamo il manuale di istruzioni. Il solito blocchettone bello consistente. Non lo so se lo uso. Nel senso mi sono già guardato online tutte le specifiche. Ho già visto i bottoni come sono configurabili. Credo che me la studierò tenendola in mano più che usando il libretto. Allora qui abbiamo la strap. Adesso le fanno più sottili. Con questo design. Qui vedete c'è scritto R7. Carina. Fanno questo design un pochettino più snello per le strap. Io non sono completamente convinto su questo perché prima quando erano un pelino più spesse secondo me accompagnavano meglio il peso sopra il collo. Sarà che io soffro di cervicale quindi però tanto io non sono un utilizzatore di strap. Di solito non la uso quindi in fondo non mi interessa neanche. Qui abbiamo il caricabatterie LCE6E e qui abbiamo la sua batteria LPSINH tra parentesi OTH che tanto comunque è sempre la solita batteria. Secondo me questa qui è la solita batteria che c'è nella 5D, che c'è nella 6D, che c'è nella 7D, che c'è nella... Cioè tutte, quasi tutte le ultime camere di fascia proprio non entry level che hanno fatto sono questo tipo di batteria qui. Quindi dovrebbe essere pressoché intercambiabile ora questa, questa perché poi io vi devo raccontare come mai mi è arrivata questa fotocamera. Questa è il motivo per cui mi è arrivata questa fotocamera perché chi ha seguito i miei video da qualche mese saprà che probabilmente io sto aspettando queste mirrorless APS-C da quando sono state annunciate. Però che cosa succede? Io ovviamente, appoggio la batteria qui, io ovviamente sono indeciso su quale fotocamera mi convenga tra la R7 e la R10, però c'è una discriminante. Il prossimo pezzo che abbiamo qui è il cavo dell'alimentazione per collegare il caricabatterie. E adesso andiamo a rimuovere il plasticone che c'è, che reggeva tutta la roba che avevo appena fatto vedere e andiamo a scoprire le parti più ghiotte. Dunque, io mi ritrovo questa terribile scelta, quindi devo andare sulla R7 o sulla R10 e ci sono due cose che mi stanno veramente qua e sono, primo, il log. Quindi sulla R10 non c'è il log, però la R10 ha la possibilità di fare streaming su YouTube direttamente in camera, quella roba mi piaceva veramente tanto. Poi però mi sono anche detto, Ferrari hai mai fatto uno streaming in vita tua? No. Hai in programma di farne? Boh, sinceramente non ho in programma, magari se ho la possibilità lo faccio, però al momento non ho, non ce l'ho in programma. Ecco, dai una risposta. No, no, non ce l'ho in programma. Ok, quindi in realtà quello che offre la R10 tu non lo useresti, mentre quello che offre la R7 lo useresti sì, perché il log lo useresti. Eh sì, sì, è così. Ok. Infatti in questo momento io sto riprendendo il log, sto usando la Canon EOS R chiaramente perché la R7 è qui. Sto girando il log perché mi piace di più, perché riesco a fare più cose dopo, riesco a fare quello che voglio in post. Quindi è un formato che mi piace di più, è un formato professionale. A me piace fare il figo definendomi un professionista e quindi quando faccio questi contenuti mi piace avere una gestione più professionale possibile di quello che è il flusso di lavoro. Quindi mi piace pensare di star facendo tutto nel modo giusto e quindi voglio anche quel formato lì, perché mi piace di più il risultato. Ho provato a non usare il log, davvero ci ho provato, ho guardato il risultato e ho detto sì, è bello, ma non è lui, non è quello che faccio io, non è quello che faccio quando posso spipolare come voglio io. Quindi ho preferito optare per la R7, un po' per il log, ma soprattutto, ma soprattutto per la batteria. Perché io ho già una Canon EOS M50 che usa un altro tipo di batteria, adesso non mi ricordo la sigla, a malapena conosco questa che ne ho 20, a malapena mi ricordo che è una LP qualcosa. Però questa è una batteria con una durata di un certo tipo e infatti Canon EOS R7 è una fotocamera che è pensata per la fotografia, in realtà io l'ho presa per il video, ma vabbè. Però è una fotocamera pensata per un uso semiprofessionale, non è un'ammiraglia, però comunque è pensata per un uso semiprofessionale, quindi ha anche una batteria che ti permette di lavorare. Mentre sulla R10 non me la sono sentita di dargli comunque 1000€, perché comunque sono 1000€, per una fotocamera dove non ho quella garanzia. Io lo so che voi volete vedere cos'altro c'è dentro questa scatola. Non avendo quella garanzia, qui andiamo a vedere che c'è una bustina e qui c'è un bellissimo contenitore che mi ricorda tantissimo. Questi sono i tipici contenitori Canon in cui mettono anche gli Speedlight, è proprio la stessa fattura. Qui dentro abbiamo altra plastichina e qui abbiamo l'adattatore, perché dovete sapere che chi la prende adesso per un periodo limitato di tempo ha in regalo il Mount Adapter EF EOS R. Quindi questo qui mi permette di utilizzare le mie ottiche vecchie, le mie ottiche EF su questa camera, comprese le FS forse, o forse ce ne vuole uno dedicato fatto apposta. Devo vedere perché io non ce l'ho un adattatore al momento, con la EOS R non ce l'avevo, questo che è il primo adattatore che ho e quindi devo testare un attimo. Ma vediamo subito. Prende anche le F, lo sapete come faccio a saperlo? Perché dentro nella baionetta ci sono i due puntini, quello rosso e quello bianco, quello rosso è per le serie L, quello bianco è per le serie EF. Quindi le prende tutte e due. Fantastico. Quindi io su questa camera posso montare anche le lenti EFS, quindi le lenti per APS-C di vecchia generazione. Lo farò? No, non lo farò mai, perché se io lo facessi fondamentalmente andrei a perdere quasi tutti quelli che sono gli automatismi della mirrorless che sono in motivo per cui io vado a comprare una camera di questo tipo. Quindi non lo farò. Però potrei. Ci sono certi casi in cui potrebbe essere comodo. Io non ho delle lenti per fare video in ambito EFS, perché ho solo lenti fotografiche, quindi lenti senza l'STM, lenti che non avrebbero la messa a fuoco che voglio io durante il video. Sarebbero magari delle buone lenti fotografiche, ma neanche tantissimo, perché alla fine la lente EFS più figa che ho è il 17-55, ma quello lo lascio sulla 80D, mi serve lì. È inutile metterlo qua. Qua ci metto un'altra cosa. Andremo poi in un prossimo video a vedere con cosa la uso, perché vi farò vedere nel dettaglio. Attenzione però. Perché questo bellissimo rumore, voi sapete che cosa significa. Significa che siamo arrivati, siamo arrivati e qui devo rompere il sigillo. Non rompo il sigillo, rompo la confezione perché si stacca. E quindi... E quindi... Eccoci qui, adunque. Abbiamo qui questa meravigliosa signorina. Allora, very first impression. Ragazzi, il grip non è male, eh? Perché guardate, il mignolo sta dentro, sta dentro tutto sommato, quindi non è così piccola. Sì, è grande. Adesso mi spiace, non posso farvele vedere di fianco perché la EOS R la sto usando per filmare. Sono grandi praticamente uguali, eh? Sono... cioè non è più piccola, non è tanto più piccola... Fatemi vedere. Stai ferma lì? Sì, sembrano sostanzialmente uguali. Questa e la EOS R sembrano uguali di forma. Devo dire che è bellina, eh? A me piace questo design, come l'hanno fatta. Soprattutto, sapete cos'è che mi piace da matti? Qui sopra, questa scocca qui, mi piace veramente tantissimo. Non lo so perché, mi piace. Allora, qui... Tanto dobbiamo fare una cosa. Questa fotocamera, io lo vedo già che è stata maltrattata quando è uscita di fabbrica perché è su P-Program. Adesso noi mettiamo M e potrei mettere la colla quasi perché non la userò mai in qualcosa che non sia M. Da quello che vedo, qui abbiamo... Qui c'è tutto quello che mi serve. Un'altra cosa per cui mi è piaciuta di più questa rispetto alla R10 è il fatto che questa ha anche l'uscita a cuffie. Quindi ha l'ingresso microfonico che, vabbè, ormai praticamente tutte le camere un po' serie hanno. Però questa ha anche l'uscita a cuffie, quindi uno può entrare, ma può anche uscire, può avere un monitoring di quello che sta facendo. E questo è professionale, è una cosa che mi è piaciuta. Quindi questa è una macchina fotografica Photography First, però mi sembra che con parto video non si faccia mancare le cose. E questi sono i motivi per cui ho deciso di prendere questa camera. Una cosa che sto adorando è che c'è il... Non so se riuscite a vedere... C'è il coperchio per la hot shoe, che è una cosa... Io custodi e coperchi, questi accesi a me fanno impazzire perché questa è una roba che mi protegge la hot shoe. Quindi vuol dire che io quando me la porto in giro c'è una copertura che protegge. È brandizzato Canon, non riesco a farvelo vedere, è troppo piccolo, però fidatevi. È brandizzato Canon questo coperchietto per la hot shoe, molto molto carino. E a me piace quando ti danno queste cose perché vuol dire che non devi diventare scemo a prendertele di terze parti che poi fanno puntualmente schifo perché sono terze parti, quindi non sono adatti, magari non entrano bene, li devi picchiare dentro a forza, ti cascano giù mentre lavori. Questo invece non cascherà mai giù perché è il suo, va dentro a incastro. Bello, bello, mi piace. Allora la cosa, la cosa, l'unica cosa che a me non fa impazzire di questa camera, ve lo dico, è... vedete l'oculare? Vedete l'oculare come viene in fuori? È molto... è molto protuberoso, cioè viene in fuori, non è rincagnato come quelli di una volta, viene molto in fuori. Ora, sono sicuro che c'è un motivo, hanno deciso di... vedete, la camera in sé è molto slim, perché il body è veramente slim, è una sottiletta praticamente, cioè è più grosso il grip, il grip è la parte più grossa del corpo macchina, il resto è veramente piccolo. Quindi i motivi secondo me possono essere due. Il primo motivo è che avevano bisogno di tanto spazio così per fare l'oculare digitale, quindi gli serviva questo spazio, non potevano farlo più corto, questo può essere un motivo. Quindi hanno deciso di mantenere il body slim, però l'oculare è dovuto venire un po' più in fuori, se no non riuscivano a progettarlo correttamente, questo potrebbe essere un motivo. Altro motivo potrebbe essere che effettivamente hanno pensato di dare un po' di spazio tra la mia faccia, quando ce l'ho a contatto, e il display, perché ci sono delle cose touch che io posso fare sul display mentre sto usando l'oculare, quindi forse il motivo è che mi hanno voluto dare lo spazio per infilare il pollice della mano sinistra e fare delle cose sul display, e in effetti lo sapete che è così, proprio lo provo al volo e la prima cosa che mi viene in mente è cavolo, il pollice passa senza toccarmi la faccia, allora è questo. Allora è proprio questo, perché io sono a contatto con l'oculare e il pollice entra perfettamente senza toccarmi la faccia, quindi direi buon lavoro, perché per chi usa quella funzionalità direi ottimo, cioè io adesso sono in grado di magari di cambiare il punto di messa a fuoco guardando nell'oculare e usando il mio pollice per decidere dove mettere a fuoco. Figo, mi piace. Altre cose che devo constatare sono una miglioria rispetto all'EOS R, hanno messo il pulsante di accensione che ha tre posizioni adesso, e questo mi rimanda alle APS-C di vecchia generazione, che a un certo punto le avevano dotate di un bottone con la terza posizione, OFF, ON, VIDEO. Questo sembra una cavolata, però invece è una figata, perché per esempio sulla Canon EOS R che sto usando adesso, questo tasto non c'è, cioè ha solamente ON e OFF. Questo cosa significa? Che io per passare tra foto e video sulla Canon EOS R devo premere tre bottoni, quindi devo premere MODE, devo selezionare, devo passare da foto a video, e poi devo dirgli ok, quindi sono tre passi. Qui invece click, sono un passo in meno, sono due passi, però lo faccio solo col pollice, cioè è istantaneo, quindi questa è una miglioria vera. Bravi ragazzi! Altra cosa che a molti probabilmente piacerà, qui dietro c'è il joystick, so se riesco a farvelo vedere, qui abbiamo il joystick, quindi c'è il joystick, gli amanti del joystick tutti in piedi, c'è il joystick con una ghiera intorno, che se ricordo bene è la ghiera che serve per regolare il diaframma, qui sopra abbiamo il bottone ISO, quindi diaframma, qua, ISO, bottone e poi una delle due ghiere, e qui abbiamo la ghiera dei tempi, quindi ho tutto a portata di mano, comoda, molto molto comoda, devo dire che anche il tasto della registrazione video è molto accessibile, quindi quello che a me interessava, ovviamente io potrei impostare lo shutter per diventare lo start and stop del video, però devo dire che, cioè, si raggiunge, non è la fine del mondo, è qui, invece di essere qui, è qui, ma ce la faccio, quindi ergonomia direi molto molto buona, design molto molto bello, ragazzi che dire, nella scatola non c'è più niente, io adesso la rimetto giù, perché adesso poi vado a fare le mie cosucce, nel senso che vado a montargli una lente, vado a preparare un pochino di cose, carico la batteria, e niente, fatemi sapere in un commento se vi interessa questo tipo di fotocamera, se ce l'avete già magari, se state pensando di prenderla, se c'è qualche feature su cui volete qualche delucidazione, perché state decidendo se prenderla o no, ma volete capire come performa, fatemi sapere tutto quanto, perché comunque arriveranno dei video nei prossimi giorni, sempre riguardo a questa camera, dove vi farò vedere come si imposta i menu, e vi farò vedere qual è la resa, la resa soprattutto video, perché a livello fotografico, cioè, non la userò tanto a livello fotografico, e poi sono anche convinto che su YouTube parlare di fotografia, far vedere la grana di una fotografia a video, sia un po' un controsenso, perché non riuscirete mai a capire qual è l'effettiva qualità, mentre su un video, vedete quantomeno quella che è la resa finale di un prodotto, perché ho giri con questa, ma poi la destinazione, il 90% delle volte, è il web, quindi vedete effettivamente qual è la resa finale di un prodotto realizzato con questa fotocamera. Potremmo parlare anche di foto, ovviamente, ma io sarò molto dedicato sul video, perché la userò 100% per fare video, non credo che ci farò mai una foto, a meno che non perda il resto dello zaino e mi rimanga solo questa. Detto questo, io vi invito anche a iscrivervi, perché questa bellezza ricomparirà nei prossimi giorni, quindi se vi iscrivete adesso e attivate la campanella, non vi perdete i prossimi episodi. Io e Canon EOSR vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti per aver guardato il video.